Lo so, lo so, lo so, sono una giornalista, lo so che ci devo fare, quando mi chiamano devo correre, devo correre, ho una videoconferenza non so con chi, uscire di casa velocemente così a me tante volte scoccia, a parte che anche uscire di casa ci fa bene, perché io non so voi, ma io in quarantena davo i numeri, i numeri che finito la quarantena ho dovuto andare dallo psicologo e dallo psicologo ho trovato altre donne come me in coda con il numero, come se fossimo dal macellaio e chiederete, ma perché sei andata fuori di testa, ma perché sei rimasta chiusa in casa, no, ma perché c'era il marito e ho scoperto anche un'altra cosa che ci sono due tipi di marito, uno come il mio e uno come quello della mia amica, il mio si chiede, si crede caranacciolo, lui entra in cucina, si blinda, è una cucina blindata lì non puoi più entrare, se devo bere devo andare in bagno, poi ti chiama con quella faccia da marito e dice, amore è pronto, io piano piano vado, ma sto attenta perché questo qui mi tira una patellata, mi vuole fare uno scherzo, apro la porta, ma che c'è stata la festa di San Patrizio, fuochi di qua di là, schizzi, matonelle, soffitto, lavandino, una pila di piatti che arriva fino lassù che c'è, il ristorante anche sopra è quella pila di piatti, avete prenotato? E poi ti dice, amore, io ho cucinato, ora tu pulisci, ma sì, no, quello della mia amica, invece cucina, balcone, cucina, gazzetta dello sport, cucina, balcone, tutto sport, poi va in giardino, in giardino, va a tagliare l'erba, va a buttare la siepe, no, va a rompere i baroni e giardiniere, e poi entra in cucina, si siede e dice, amore, ho fame, ma fammi da che, aprite il frigo, il frigo? Ma perché? Io pensavo ci tenessi le racchette da tennis, ma le racchette da tennis te le do tutte qui, con la pallina, vediamo qua la, scusate, lo scopo, ma non devo dire, vediamo qua se si è collegato qualcuna, con questa conferenza, ma ancora non c'è nessuno, guardate, un invito a una videoconferenza, ho seguito le istruzioni, mi sono collegata, non un cane, non un cane, ma dove sarà? Possibile, ma dove è finito? Eh? Piano, piano, con calma, con calma, le sembra il modo di fare? Oh, finalmente un cane che dice qualcosa, toh, ma compare qualcosa? Ma che è sta roba? Ah, cara la mia madama maleducata che interrompe chi parla, non ha capito proprio niente, vero? Ma, scusi, cosa devo capire di uno che mi invita a una videoconferenza, non si presenta con la sua faccia e mi fa vedere una specie di sgorpio? Intanto che non sono uno sgorpio, ecco, e poi ci sarebbero un po' di cosette da capire, ma non le avete capite sino ad adesso? Eh, le ha capite lei? Non le avete capite voi sino ad adesso e quindi ho perso le speranze. Sì, ma senta, lei si presenti, con chi parlo? Certamente con nessuno, anche perché sono stanto, sono scocciato di non essere considerato. Lei, lei è scocciato che sono uscita io di casa. E dire che ho fatto proprio di tutto è per farmi notare, ma dico di tutto. Ma quanto amare? Chi la conosce? Quanti strilli, quante grida, oh, quante scene in stelle che dite voi per colpa mia. E voi non sapete nemmeno chi sono? No. Grazie. Grazie.